Ciao ragazzi benvenuti in questo video, oggi vediamo un modo per guadagnare online che in questo momento storico vi può far fare soldi in maniera molto facile partendo da zero e in modo veramente facile, l'ho già detto, ma è semplicissimo vi basta una connessione internet e Telegram, ragazzi, ho scritto su Fiverr Fiverr, Community Telegram, ok? Sarò il tuo Community Manager, perché dico che in questo momento c'è bisogno di un Community Manager? Perché siamo in piena Burran, ok? Chi non conosce questo termine mi dispiace, con il termine Burran si intende quel momento storico in cui il mercato delle cripto soprattutto, cioè è un termine che ho imparato nel settore delle cripto ma una Burran può avvenire credo in qualsiasi settore, però ha a che fare con appunto asset finanziari bene, c'è sempre un periodo, nelle cripto avviene ogni ciclico e adesso siamo entrati in una Burran con Bitcoin che ha superato i precedenti massimi storici, ok? abbiamo raggiunto quasi 72 mila dollari per il prezzo di Bitcoin ora è sceso, sta ritracciando, ma comunque abbiamo fatto nuovi massimi prima dell'alding, ok? chissà, conosce il settore cripto, sa di cosa sto parlando quindi fino alla fine dell'anno per poi anche andare oltre nel 2025 ci sarà un forte hype nelle cripto e questo che cosa porta? anche alla nascita di nuovi progetti c'è stata anche fino a qualche settimana fa, anche giorno fa diciamo una crescita delle meme coin, tutte le meme coin crescevano e quindi nascono nuovi progetti cripto e di che cosa hanno bisogno i progetti cripto? di un community manager sappiate che, quindi io ho scritto community telegram mi sono usciti tutti questi annunci sappiate che c'è tantissimo bisogno di un community manager ok? soprattutto su telegram perché i progetti cripto hanno un gruppo telegram che va gestito e chi sta lanciando una nuova meme coin o una nuova coin ha bisogno di persone che lavorino e che siano sempre presenti a gestire i social ok? e soprattutto telegram alla fine possiamo lanciare una cripto avendo un gruppo telegram e un account su twitter su twitter girano molto diciamo le informazioni delle cripto quindi basterebbe questo ma anche solo il gruppo telegram è fondamentale guardate questa persona sarò il tuo community manager di telegram e amministratore del server discord anche discord ok? perché è sul discord che funziona più o meno cioè è un po' diverso però si tratta di gestire sempre una community che si riunisce in chat virtuali o su telegram o su discord guardate questo al mese addirittura sarò attivo a gestire il tuo gruppo 12 ore al giorno per 30 giorni questo a 115 euro e 92 veramente poco ne avevo trovati alcuni telegram admin che per 16 ore tutti i giorni per una settimana 48 euro 115 per 14 giorni 260 euro per 30 giorni però 24 ore al giorno e vediamo quest'altro questo due giorni telegram community manager 19 euro e 32 183 euro per 14 giorni 376 euro per 30 giorni ok? io credo che intorno ai 300-400 euro potete chiedere ok? al mese vi basta trovare un cliente dovete stare solo su telegram decidete voi impostate voi magari studiatevi tutti i vari gig che trovate questo premium 15 no questo non mi piace sarò il tuo amministratore monitorale della community per 15 giorni no cercate comunque telegram community manager 106 euro sarò il tuo community manager 309 euro per 30 giorni quindi dai 300 ai 400 euro vi basta un cliente vi bastano due clienti e potete semplicemente rispondendo alle chat ok? guadagnare online ovviamente un minimo del mondo cripto dovete conoscere però ecco vi do questa idea in questo momento c'è una forte richiesta da parte del mercato di amministratori di community telegram di manager di community telegram e quindi questa può essere una idea ok? quindi fatevi un giro se state cercando di guadagnare online qualche soldo questa potrebbe essere un'idea poi ovviamente se volete fare sul serio vi ricordo di andare su corsogratis.michelevaralino.com c'è anche il link in descrizione per guardare il mio corso completo di un'ora su come fare più 3000 euro al mese in organico con i prodotti digitali youtube e il blog lì vi spiego in un'ora come creare un business un personal brand su magari youtube creare magari un cash cow channel e anche un blog e guadagnare attraverso la vendita dei propri prodotti digitali che ti costano zero ti costa zero fare un prodotto digitale perché solo le tue informazioni ma alla fine si tratta di creare corsi o pdf da vendere online e vendi diciamo che vendendo i tuoi prodotti digitali margini di più ma il blog e youtube ti danno anche altre diciamo opportunità di guadagnare youtube ti paga dalle visualizzazioni dalle affiliazioni anche il blog dalle affiliazioni e poi i tuoi prodotti digitali possono diventare anche dei libri su amazon e guadagnare anche di là spiego tutto nel corso vattelo a vedere una vera e propria masterclass di un'ora dove ti faccio vedere io come replico proprio cioè il mio modello perché questa cosa non è che me la sono inventata io chi mi conosce lo sa io vengo dalla musica ho un canale musicale su youtube michelemaralino musica ho il mio blog michelemaralino.com vendo i miei libri vendo i miei prodotti infoprodotti corsi e servizi anche di consulenza ai musicisti e in questo corso che trovi su corsogradis.michelemaralino.com ti spiego come puoi replicare questa cosa nella pagina trovi anche alcuni miei risultati di vendita giornaliera di interessante poi è un business che puoi scalare ci sono le recensioni alcune recensioni di alcuni miei studenti e ti basta lasciare i dati vedi e praticamente puoi accedere a questo corso di un'ora completamente gratis se vuoi guadagnare online seriamente cambiare la tua vita e guadagnare tanto online vai su corsogratis.michelemaralino.com fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video e di questa idea per guadagnare online community telegram manager momento storico adesso di cui c'è estremamente bisogno fatemi sapere nei commenti e se questo video vi è ispirato iscrivetevi al canale commentate mettete like e noi ci vediamo ad un prossimo video mi raccomando ragazzi iscrivetevi perché ho visto che le persone che guardano i miei video per la maggior parte non sono iscritte al canale quindi vi chiedo di supportare il mio canale cerchiamo di arrivare a 20.000 iscritti per il 6 luglio ce la dovremmo fare il mio compleanno faccio 40 anni fatemi questo regalo iscrivetevi commentate mettete like e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao